Ognuno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente. L'altro è già stato ospite della fondazione, vi non devo aggiungere nulla, avete già avuto occasione di ascoltarlo, per quelli che c'erano, soprattutto di apprezzare non solo la limpidezza, la chiarezza e la profondità del pensiero di Cicicicicero, ma soprattutto di apprezzare anche certe posizioni, un po' controcorrente, adesso la corrente si è un po' cambiata, ma un po' controcorrente, che sono assunte nelle sue ricerche, tutte documentate, tutte censite dai suoi studi e dalla documentazione che è corroborata, su cui i suoi studi si sono concentrati, che hanno corroborato sui stessi. Quindi io, soprattutto lo ringrazio di essere tornato, è uno scrittore straordinario, quindi avete già letto anche, credo, i suoi lavori, infatti lo conoscete come giornalista, anche i suoi lavori monografici, devo dire, i lavori monografici hanno, infatti, il lavoro su Fonte Landolfo e Casanduni ha anche, oltre a trattare un argomento di grande delicatezza, solo da poco, per la verità, è emerso dall'oblio, ma soprattutto è quel volume, è un romanzo, è un incrocio tra, molto prima di qualcun altro, e poi, su questi argomenti ne ha fatto molto sfoggio, è un incrocio tra un'illustrazione creativa dei fatti e, invece, un'illustrazione documentata e, nel senso, rigorosa di quei fatti. Quindi, uno dei due lavori che presentiamo, che non trovate fuori perché non ci sono più copie disponibili, presso la casa editrice, quindi... No, si vende in edicola, per esempio, su Fonte Landolfo, se si è ancora in edicola, per un altro mese, quindi... Ma dove, in qualsiasi... Vende in edicola, uno lo può pure prenotare, chiedere... Ah, sì, va bene, questo è una buona notizia, no, perché qui non lo avevamo, infatti la nostra notizia... No, perché non è in libreria, quindi non lo può avere, è chiaro, è una distribuzione diversa, è un canale, anche dei tempi diversi... Sì, però questa è una buona notizia, in edicola la potete ancora trovare, vi consiglio di leggerlo, poi ci illustrerà la diversa impronta delle due, per l'altra è quella che riguarda i vinti. Ho avuto tante mail quando abbiamo fatto girare la notizia della presenza di Gigi Fiori, la moglie di Roberto Selvaggio, peraltro lui, Cinta, che mi amica da sempre, che fa uno dei migliori vini d'Italia, perché si chiama il galante, il terrenavoro, Peronelli l'ha considerato per tre anni, consiglio di migliori rossolità, che si fa per qua, stesso lungo, e tanti come appunto Maria Luisa Morena, la moglie di Roberto Selvaggio, mi hanno manifestato non solo la piena condivisione dei contenuti, ma anche il fatto che lì sono ricordati anche autori minori, quindi dimostrazione della peculiarità della ricerca, autori minori che altrimenti si erano dimenticati, tra cui lo stesso Roberto Selvaggio non c'è più, però ha fatto anche lui un contributo significativo nella direzione in cui per fortuna Gigi Fiori continua a dare delle gratificazioni, anche dei conforti, come la vicenda di Ponte Vandrotto e Cassaduni, ma anche di una vicenda di Vinti, che è una vicenda particolare, non ha un tono romanzato, ma è invece un documento straordinario in cui dentro ci sono spunti, che chiedo poi a Gigi di illustrarceli meglio, spunti che ci aprono degli squarci, non solo sulla vita dell'episodio, ma anche su un pezzo di storia che andrebbe completamente riletto, ripensato, soprattutto in ordine non tanto alle cose che sono state fatte, ma soprattutto alle cose che non sono state fatte, soprattutto che non sono state dette. L'ingiustizia ovviamente se ne cade, i due libri se ne cadono, per chi come me si occupa da giurista di cose giuste, noi abbiamo un progetto che si chiama così, si chiama Progetto Giuste, un progetto di ricerca che si occupa di questo argomento, devo dire che questi libri sono straordinariamente emblematici, quindi lo ringrazio di essere tornato, lo ringrazio di aver dato questa doppia testimonianza di cui vi parliamo. Partiamo da Ponte Vandrotto e Cassaduni o poi la parte che è Vinti. dai vinti preferiti. Allora innanzitutto buonasera, ben ritrovati a chi c'era anche l'altra volta. Io voglio partire un attimo, innanzitutto perché I Vinti del Risorgimento è una riedizione di un libro di dieci anni fa e il fatto che sia stato ristampato, perché c'è stata richiesta su questo libro che è andato esaurito e la risposta buona che ha avuto fino ad ora, da novembre, dalla ristampa, testimonia che c'è ancora una grande attenzione, un grande interesse verso le cose che tratta questo libro. Perché io ho detto di voler cominciare dai vinti, perché nei vinti ci sono un paio di chicche che riguardano proprio l'Uccidio di Ponte Landolfo che sono comparsi per la prima volta in questo libro che uscì in prima edizione del 2004. Innanzitutto, e questo è la fonte d'ufficio storico dell'esercito, i nomi completi di tutti i famosi soldati che furono uccisi a Ponte Landolfo e nella strada per Casalduni che fecero da premessa all'eccidio e alla rappresaglia successiva. Quindi io ho trovato quasi casualmente nei documenti dell'ufficio storico dell'esercito l'elenco completo dei 41 morti, che erano citati in un fascicolo, in una cartella particolare che era quella dei decorati dopo la morte. Andando a vedere il perché erano stati decorati, si è arrivati a capire che erano quelli uccisi, i 41 uccisi, perché i soldati, c'erano tre carabinieri in tutto, i militari erano 44, questo tenente braccio che li guidava, tre riuscirono a sopravvivere e 41 furono uccisi, alcuni subito negli scontri, altri scappando e furono poi massacrati e ammazzati successivamente nella zona che è attualmente il campo sportivo di Casalduni. Quindi in quel largo procedere furono uccisi gli altri che riuscirono a scampare dallo scontro iniziale. Questo era uno. Poi altri documenti interessanti che sono comparsi per la prima volta negli anni, era questo scambio frenetico di lettere e di segnalazioni e di allarmi che si lanciavano i militari ufficiali piemontesi su quello che accadeva in zona. Quindi ci sono questi compiacimenti e questi complimenti per l'operazione compiuta a Ponte Landolfo, ci sono tracce di una mini inchiesta che si fece, perché successivamente fu fatta una mini inchiesta nei confronti di questo tenente Bracci Livornese che entrò in paese, che aveva avuto il compito di fare una ricognizione semplice con questi 44 e di non addentrarsi in questi paesi pericolosi ritenuti ricettacolo e rifugio di briganti. Quindi additavano a questo tenente la responsabilità di questi morti, il tenente che morì e non si è mai capito, ci sono alcune fonti che dicono che fu uno dei suoi a sparargli perché si dimostrò incapace, si dimostrò non in grado di affrontare la situazione. In realtà poi la lettura è un po' complessa e dopo ne accenderemo. Quindi nei vinti del risorgimento c'è anche molto e documenti nuovi sull'ecidio e c'è anche per la prima volta chiarito in maniera definitiva chi era il tenente colonnello che guidava il plotone dei 400 bersaglieri, la colonna dei 400 bersaglieri che furono comandati il 14 agosto del 1861 a distruggere il paese di Ponte Landolco perché non ne rimanesse pietra su pietra. Ed era quel famoso Pieri Leonoro Negri, questo vicentino, che in quel momento era una specie di eroe per l'esercito italiano piemontese. Pieri Leonoro Negri era un vicentino quindi aveva disertato l'esercito austriaco per andare nell'esercito piemontese, quindi aveva partecipato alla guerra di Crimea, alla seconda guerra di indipendenza, era stato il comandante dei bersaglieri nelle operazioni e negli scontri contro l'esercito regolare borbonico sul garigliano, aveva condotto tre assalti dei bersaglieri piemontesi contro le postazioni napoletane, aveva partecipato alla sede, insomma era un ufficiale decorato, stimato, quindi era la persona adatta a fare anche come si direbbe oggi il lavoro sporco e quindi a lui fu affidato questa rappresaglia, fu affidata questa vendetta perché certamente a pochi mesi dall'Unità d'Italia, vedere uccisi nel mezzogiorno tutti insieme, 41 soldati, era un'unta troppo pesante per l'esercito che doveva controllare l'ordine pubblico e la situazione nel sud d'Italia e quindi una reazione immediata e violenta era nei fatti e quindi infatti fu comandata. Quindi ci sono tutta una serie di pagine anche sui vinti del risorgimento, sull'eccidio, perché i vinti del risorgimento nasce da una curiosità, cioè riuscire a capire nei sei mesi ignorati dai libri di testo, perché i libri di testo su quello che è avvenuto nel mezzogiorno, i libri di testo delle scuole naturalmente, su quello che è avvenuto nel mezzogiorno si fermano all'arrivo di Garibaldi a Napoli, come se dopo l'arrivo di Garibaldi e dopo la battaglia del Vulturo fosse finita la storia e tutto il mezzogiorno in maniera pacifica e tranquilla divenne italiano e non ci furono più fermenti, non ci fu più nessun episodio e problema successivo. In realtà ci furono sei mesi di guerra vera e propria e Francesco II, quando lasciò Napoli il 6 settembre 1860, finalmente per decreto dichiarò il regno in stato di guerra. Quindi da quel momento l'esercito regolare Borbonico si ritene in guerra contro i Garibaldini da una parte e l'esercito regolare piemontese che entrò il 12 di ottobre del 1860 sconfinando nel regno successivamente. In realtà quello sconfinamento dopo la battaglia del Macerone che precedette di ben nove giorni il famoso plebiscito che legittima quindi questo ingresso e questa annessione forzata del Mezzogiorno d'Italia giuridicamente un plebiscito fatto con le modalità che sappiamo, in realtà già dopo la battaglia del Macerone il generale Manfredo Fanti pubblicò un programma, un editto in cui diceva che da quel momento in poi tutte le persone civili trovate armate e quindi in atteggiamento ostile nei confronti dei militari piemontesi sarebbero stati fucilati e sarebbero stati processati. Quindi da quel momento in poi si riteneva di giustificare soltanto la guerra con persone indivise contro un esercito regolare che era quello delle due Sicilie e quello Borbonno. Chiunque altro che sparasse o veniva considerato un fuorileggio e veniva considerato qualcosa su cui si poteva tranquillamente esercitare il codice penale di guerra e si poteva tranquillamente attuare delle forme di repressione e di reazione. Perché cito questo proclama? Perché è una, mi trovo vicino ad un giurista, è una giustificazione giuridica di quello che avvenne dopo. Cioè uno stato di assedio di fatto, anche se non dichiarato attraverso norme esplicite, una prevaricazione ed un potere enorme degli ufficiali e dell'esercito piemontese, era ancora piemontese e in quel momento i due stati erano in pace tra loro, avevano addirittura accreditati dei diplomatici nelle loro capitali, a Torino c'era ancora l'ambasciatore napoletano e a Napoli c'era Villa Marina che era l'ambasciatore di Torino. Quindi era una situazione davvero confusa, davvero ambigua. Quindi in quelle condizioni cominciava la penetrazione e cominciava questa violazione totale e di conquista di questo territorio e di questo stato. Naturalmente se questi sono i precedenti, se questi sono i presupposti, poi successero tutta una serie di cose. Si scatenò una reazione sociale, perché poi quando parliamo della guerra civile, del brigantaggio, stiamo parlando soprattutto in prevalenza di una guerra sociale, di una guerra civile scatenata dai contadini. I contadini in questi rivolgimenti, in questa confusione, pensavano che finalmente fosse arrivata la loro ora di una ridistribuzione di terre promessa da sempre, da quando tentò prima del 99 Ferdinando IV una prima soppressione della feudalità, poi ci provò Murat con le sue leggi e con i suoi decreti, poi cercarono anche Ferdinando I e Ferdinando II di ridistribuire e di ridiscutere questo accentramento e questo monopolio di terra in mano di pochi. Quindi i contadini pensavano e speravano che finalmente dopo le promesse di Garibaldi fosse venuto il loro momento. Si resero conto che non era così e quindi molti andarono alla macchia, molti cominciarono a diventare i nemici degli ufficiali dell'esercito più montese che difendevano gli interessi dei ganantuomini, dei proprietari terrieri, dei latifondisti e quindi si scatenò questa guerra civile in cui poi i più accesi a chiedere truppe, a chiedere repressioni, a chiedere esercito furono proprio i latifondisti meridionali che temevano che quella rivoluzione politica diventasse una rivoluzione sociale e quindi si scatenassero delle differenze, degli sconvolgimenti di equilibri consolidati. Naturalmente le pagine figacissime del Gattopardo, di Tommasi di Lampedusa rendono bene qual era il contesto, qual era il primo e qual era l'atteggiamento dei Gattopardi e dei latifondisti in tutte le aree del Mezzogiorno d'Italia. Quindi questo era il contesto e le premesse di tutte queste vicende. Naturalmente ci si trovava di fronte ad un esercito che fino al marzo 1861 si poteva considerare un esercito di occupazione, anche se giustificava quella presenza e anche i governi europei iniziali a Napoli, il famoso plebiscito del 21 ottobre 1860. Dal marzo 1861 con la proclamazione di unità d'Italia e soprattutto a maggio quando fu creato l'esercito italiano non si trattava più di un esercito di occupazione ma di un esercito italiano che si trova sul suolo italiano e si comporta come esercito in guerra contro gli stessi italiani, evidentemente c'è qualcosa che non guarda e che non torna in questo ragionamento, in questo comportamento ed è quello che poi avvenne in quei mesi e in quel periodo. questo esercito che aveva e in cui i soldati furono impegnati in questa che viene sempre definita la campagna della bassa Italia, lavorava e agiva in condizioni logistiche anche proibitive, anche difficili e quindi che esasperarono certi atteggiamenti, certe violenze in modo di porsi nei confronti di queste popolazioni. Pensate ad esempio che all'inizio soprattutto nella repressione delle bande di briganti c'era ancora un equipaggiamento pesantissimo, quindi questi zaini con pesanti, il cappotto di ordinanza e quindi marciare in zone impervie tra boschi, montagne e sentieri difficili era certamente una faticaccia per questi soldati, in quel periodo soprattutto all'inizio la dotazione delle scarpe, per esempio, era uguale, non esisteva all'epoca la scarpa destra e la scarpa sinistra, si modellavano con il piede dentro, quindi immaginatevi con questi chilometri di marce che piedi piagati avevano quei soldati alla fine di quelle giornate. Le mappe aggiornate erano poche, le guide che venivano richieste facevano il doppio gioco e quindi ne diffidavano naturalmente questi ufficiali, non capivano il linguaggio dell'agente del posto e spesso per interrogare i briganti e avessati avevano bisogno degli interpreti, quindi pensate un po' a questa stanza, che abisso culturale c'erano tra questi occupanti e tra le persone che si vedevano in quella maniera violanti. Quindi erano queste le condizioni in cui agivano questi militari e si rivela tranquillamente nelle lettere che mandavano a casa, si legge tutto il disprezzo, tutto il pregiudizio, tutto il fastidio di stare in queste zone, in questi territori con barbari, con ottentotti come scriveva Fanti e anche Menabrea in questa realtà, in una distanza, un abisso culturale che trasferivano poi quando tornavano a casa, quando parlavano con le famiglie, quando parlavano con gli amici. Vedendosi trattati in quel modo naturalmente chi reagiva e chi si organizzava a combattere aveva una reazione moltiplicata all'eccesso, nella violenza, certamente il brigantaggio non fu una guerra di educande, gli episodi furono molto violenti, furono esasperati, alcuni episodi crudi, proprio di scimpi sui cadaveri furono reali, furono veri, anche a monito i militari ad esempio tagliavano la testa e li portavano in paese per dimostrare che avevano ammazzato il capo e avevano distrutto le bande e tagliavano la testa perché era più comodo portare la testa e non il corpo intero, quindi era questo anche un motivo pratico di esibire queste parti del corpo. Dalla parte invece dei briganti c'era l'eccesso inverso, quindi eviravano questi cadaveri, dispogliavano completamente dei loro averi, si appropiavano del denaro, ma questo era, insomma fu una guerra davvero sanguinosa, davvero violenta, davvero crudere, una guerra da migliaia di morti che non figurano nel computo ufficiale del prezzo pagato dal Mezzogiorno all'Unità d'Italia, eppure hanno pesato in maniera rilevante e a mio avviso pesano ancora nella trasmissione, quasi da DNA, dell'atteggiamento che si ha in alcune aree più interi, più isolate del Mezzogiorno nei confronti dello Stato, questo Stato che è calato dall'alto, violento, repressivo, che non cerca il consenso, perché poi quello era in quel momento, gli ufficiali, quell'esercito era uno Stato italiano, di cui loro non sapevano completamente nulla, l'idea di Unità d'Italia, che era un'idea evitaria, era stata condotta soltanto avanti dal 2% della popolazione totale dell'Italia di allora, era lontanissima dai contadini che erano vissuti per quattro generazioni in un regno particolare, autonomo, indipendente, con una dinastia regnante che era quella, definita e conosciuta, quindi pensate che lontananza potevano avere con una capitale che era addirittura a Torino, con una dinastia che era lì a Torino, insomma lontanissima dal momento, che era in una città che era in quel momento altro capo del mondo per i collegamenti dell'epoca, poi c'era anche questa differenza, l'ho evidenziato prima, di lingue, che rendeva tutto molto difficile. In tutto questo si cercò una soluzione che fu peggiore della soluzione rapida e drastica di passaggio, cioè arrivare alla unificazione attraverso dei governi luogotenenziali, quattro governi che seguirono quelli dittatoriali di Garibaldi, creati a Napoli che dovevano gestire tutto l'ex regno delle due Sicilie. In questo caos, in questa confusione amministrativa, in questa confusione giuridica, il Mezzogiorno era davvero una specie di far west, qualcosa di ingovernabile, qualcosa di violento e l'eco arrivava a Torino naturalmente e si arrivò finalmente al primo dibattito dopo tre interpellanze sulle province napoletane, si arrivò a questo primo dibattito in Parlamento che partì il 20 novembre 1861 in cui si cominciò a parlare delle province napoletane, un dibattito che andò avanti per diversi giorni e in cui ufficialmente, finalmente, per la prima volta in documenti ufficiali dello Stato italiano di allora, comparve citato le Sicilie di Ponte d'Ambolfo. In due momenti, una era un documento che consegnò scritto Francesco Prodo, Duta di Maddaloni, che se l'era scritto per non confondersi, per non andare in contraddizioni, in ambiguità e lo depositò. Poi gli fecero uno scherzo perché era depositato e doveva essere letto solo dai parlamentari. Qualcuno fece filtrare il documento ai giornali, il documento fu pubblicato e massacrarono naturalmente il Duca di Maddaloni, chiamandolo borbonico, chiamandolo reazionario, chiamandolo difensore del peggio che c'era nel Mezzogiorno d'Italia. Lui per reazione si divise dal Parlamento dopo sei mesi e pubblicò a sue spese il testo completo e se ne andò a Roma, era un personaggio molto singolare e molto particolare. Questo era il primo. Il secondo invece fu l'intervento, questa volta verbale, del 3 dicembre di Giuseppe Ferrari. Giuseppe Ferrari era il filosofo milanese vicino alle posizioni di Cattani, quindi alle posizioni federaliste, che aveva fatto una cosa veramente ammirevole perché era forse in quel momento la figura, l'emblema di come e quale sarebbe stato l'approccio giusto che dal nord dovevano avere nei confronti di questo Mezzogiorno da unire, quindi da ammettere. Si mise in viaggio e andò a vedere che cosa era successo a Ponte Landolfo, quindi andò a visitare questo paese, lo trovò completamente distrutto, tre sole case erano rimaste in piedi, quelle dei liberali e quelle quindi del sindaco, gli si avvicinarono alcuni sopravvissuti che gli raccontarono l'orrore che avevano vissuto e quello che era successo. Lui molto provato, molto scioccato da questa esperienza, in Parlamento facendo il suo intervento sulle province napoletane, fece un accenno molto lungo a questa sua esperienza e a quello che era successo a Ponte Landolfo. Naturalmente si levarono grida soprattutto degli esuri poi meridionali, non esistono queste cose, sei contro l'Italia, era molto difficile sollevare e tramandare soprattutto questi fatti in maniera corretta e in maniera onesta dal punto di vista intellettuale, perché si era di fronte a ostacoli e a critiche proprio perché l'Italia in quel momento era sulle palla fitte, cioè era una costruzione tutta da fare, quindi molto precaria, era in fasce, quindi qualsiasi cosa l'avrebbe messa in pericolo e in quel momento il mezzogiorno e l'annessione del mezzogiorno era in pericolo, cioè era stato unito con sangue e con difficoltà anche diplomatiche e si rischiava di perderlo subito, infatti c'era qualcuno che diceva ma se non vogliono stare con noi e vogliamo, insomma andiamocene, era D'Azeglio che lo diceva e lo scriveva in una lettera, questo era il contesto, questo era il periodo che si prolungò per diverso tempo, tanto è vero che nel 1863 fu approvata la prima legge speciale dell'Italia Unita che era la legge picca, la legge di repressione del brigantaggio che legittimava di fatto lo stato d'assedio e il potere ai tribunali militari che già esistevano ma in quel momento si diede una veste giuridica con poteri speciali che scavalcavano e abolivano alcune norme dello statuto albertino che era quindi in vigore, rispettato fino a un certo punto del territorio italiano, nelle sei regioni meridionali non esisteva più lo statuto, c'era una legge speciale sul brigantaggio, la legge picca. A Ponte Landolfo viene citato come episodio grosso innanzitutto per il numero e l'entità dei morti, ma anche perché è un po' l'emblema di quello che accadde in molti paesi, che cosa succedeva in un territorio che era difficilmente controllabile? In molti paesi spesso scendevano i briganti e fuggivano i liberali, poi arrivavano i soldati piemontesi, fuggivano i briganti e venivano fucilati quelli che avevano appoggiato questi briganti scesi che poi era la maggior parte della gente, perché la gente era cresciuta con questi contadini, era cresciuta con questa gente, quindi dovendo fare una scelta di campo era chiaro che si schieravano con loro e non si schieravano i soldati piemontesi, era chiaro che molte spiate sul movimento delle truppe arrivavano, era chiaro che i rifornimenti sulle montagne venivano dati da queste persone e quindi si usò questo tipo di guerriglia, la tattica militare è usata in tutte le guerriglie, si è usato contro anche i partigiani nella resistenza, cioè il fare terra bruciata attorno a queste bandi, attorno a questi combattenti, quindi levando di mezzo i loro parenti, quindi arrestandoli, impedendo che si allontanasse qualcuno con dei rifornimenti del cibo da portare in montagna, controllando il territorio e bruciando le capanne che erano in questi territori che potevano fare da rifugio, andando a ostacolare i collegamenti con perlustrazioni continue, insomma sono le solite tattiche di reazione alla guerriglia che vengono attuate dagli eserciti regolari. Ponte Landolfo è in questo senso un po' la vicenda emblematica, successe che anche nel paese ci furono dei liberali dell'ultima ora, cioè quelli che si convertono ad una causa quando vedono che sta franando, sta bruciando la casa e quindi escono fuori e crearono questo comitato elettorale in cui c'era l'esattore, c'era il sindaco, c'erano una serie di persone. Arrivarono delle lettere minatorie di questo brigante che era di Cerreto, qui vicino, Cosimo Giordani, di Cerreto San Itano, c'è ancora in piedi la casa di Cosimo Giordani, che era un ex caporale borbonico che aveva tutti dei trascorsi ed aveva creato, era la banda di briganti più forte nel territorio del Matese e nel territorio del Sannio verso Campobasso e quindi mandarono delle lettere minatorie, il sindaco minacciò di non far addirittura tenere i festeggiamenti della festa di San Donato, che è la festa tipica del padrono di Ponte Landolfo del 7 agosto, quindi c'era anche questo pericolo, c'era un ruolo del parroco dell'arciprete, si diceva allora Epifanio De Gregorio che aveva questi contatti con i briganti e con le bande di briganti, il fatto sta che vedendo l'assenza totale di guardia nazionale, di militari in zona, fuggirono i liberali temendo che arrivassero i briganti, infatti arrivò la banda di Cosimo Giordano in paese e questa banda alimentò e giustificò una reazione da parte di chi voleva vendetta nei confronti di qualcuno, ci furono 4 morti individuati come liberali, l'esattore delle tasse ed altre persone e questi morti naturalmente furono la giustificazione per far spostare delle perlustrazioni che erano in atto nell'intero territorio in quei giorni, questa colonna del tenente Bracci di Ponte Landolfo. La colonna di Bracci arrivò a Ponte Landolfo, successe un po', pensava di potersi addentrare, fu aggredita, fu assalita, poi tentarono di fuggire verso Casalduni, da Casalduni uscirono altre persone, furono spesso i contadini, i civili armati di vanghe, di tutto quello che potevano avere, insomma furono massacrati e uccisi 41 soldati e 3 fuggirono, i 3 che fuggirono raccontarono quello che era successo e da lì appunto dal lugotenente Cialdini partì l'ordine di radere al suolo questi due paesi e furono affidato quindi la missione a due colonne, una colonna a Negri che guidava quindi 400 bersaglieri a Ponte Landolfo e l'altra colonna al maggiore Melegari che doveva dirigersi su Casalduni. Melegari tra l'altro racconta in un libro di memoria che uscì all'epoca, anonimo, ma era lui che lo scrisse, tutto questo ordine che ebbe si trovava a San Carlo e stava seguendo l'opera lirica a San Carlo, fu convocato d'urgenza, gli dissero quello che era successo e quindi si doveva mettere subito in marcia, organizzare questi bersaglieri, andare a Casalduni mentre già in zona operavano delle compagnie di bersaglieri e quindi ci sarebbe stata questa questa azione concordata. È un po' come il successo nei film americani con gli indiani con le giubbe russe, successo uguale a Ponte Landolfo e all'alba del 14 agosto si cataputtarono sul paese, bruciarono tutte le case, successe di tutto, molti orrori e la cosa incredibile negli anni, perché sull'evidenza si vuole sempre per giustificare, per dire che l'unità d'Italia fu una cosa bellissima e fu accettata da tutti e non fu dolorosa per nessuno, si è sempre negato un'entità così grande di quel lecidio, di quel massaggio. In realtà già i giornali dell'epoca parlavano di 164 morti accettate. I nomi che sono scolpiti dal 1983 fuori il comune di Ponte Landolfo con i 4 uccisi prima che arrivassero i militari, sono quelli noti, con Cettabiondi, Irinaudi eccetera e sono 13, che sono quelli individuati, quelli che sono stati tramandati, perché registrati in maniera evidente sui registri parrocchiali. Nell'83 il sindaco Perugini dell'epoca, oggi scomparso, fece una cerimonia in cui andò anche agli anello, una cerimonia ufficiale in cui fu messa questa targa in armo fuori al comune con tutti i nomi, accomunando quelli prima e quelli dopo per una tentativa di pacificazione nel paese. In realtà è evidente che la mortalità nel cavallo tra il 1861 e il 1862 e il numero di residenti i conti e i numeri non tornano, perché ci sono dei vuoti enormi tra i residenti di prima e quelli di dopo, che fine hanno fatto questi abitanti? Sono tutti emigrati, sono tutti fuggiti e allora io ho tentato di dare spesso delle spiegazioni. Uno, un ecidio fatto bruciando le case, spesso la gente si rifugiava nelle case, molti morirono negli incendi, morirono nelle case, quindi i corpi non si trovavano. Gli scampati avevano il terrore di denunciare la morte di un loro congiunto, di un loro parente, per il timore di essere accusati di essere con i venti obbliganti, di avere delle responsabilità nei fatti precedenti. E poi ci sono anche recenti emersi delle testimonianze che raccontano qualcosa di nuovo. Io ho pubblicato e ne ho parlato sul blog che curo nella pagina online del mattino, che si chiama Controstori, vi sa perché, un documento di cui sono venuto in possesso, che mi hanno mandato, che è un diario, sono le memorie di un Nolli, che era un seminarista che stava diventando sacerdote, che visse in quel periodo e scriveva un diario, quindi non scriveva per pubblicare o per tramandare i posteri, ma per se stesso, per ricordare delle cose. Era di Benafro, viveva a Benafro e aveva saputo di queste ricette e racconta un fatto che poco si sa. Nelle ore immediatamente successive, anche se si accenna qualche cosa, ad esempio Nicoletta Valillo lei accenna nel suo libro, però in presa diretta, con una testimonianza di chi visse nell'epoca, è molto più interessante. Racconta che nelle ore successive agli ecidi la gente scappò sulle montagne e nelle zone circostanti, ma per almeno 7-15 giorni dopo gli ecidi, i militari andavano a caccia di chi era scappato da Ponte Landolfo per fucilarli. Quindi avvenne qualche cosa davvero di terribile, che non si è saputo o non si sa in questi termini. Infatti lui racconta della fucilazione di una ventina di persone, di cui aveva avuto notizia diretta e dice probabilmente erano i fuggitivi da Ponte Landolfo che sono accusati di brigantare. Quindi pensate quanti ne furono uccisi successivamente di cui si è persa traccia e di cui non si conosce il nome né si può conoscere il nome, questo è evidente. Nelle memorie di Enrico Morozzo della Rocca, che è stato il comandante nella zona di Napoli all'inizio, quindi comandante militare, racconta in maniera chiara ed evidente che poiché le direttive militari erano che bisognava fucilare o i capi o i fuggitivi, loro se la cavavano mettendo nei rapporti che avevano dovuto fucilare alcuni fuggitivi. Quindi praticamente il numero così alto dei fucilati, loro prendevano e non ci pensavano due volte, insomma è la classica regola di non si fanno prigionieri, quindi li prendevano e li fucilavano e quindi giustificavano dicendo che poiché stavano scappando si è dovuto fucilarli e sparare contro questa gente. Quindi è un numero altissimo di morti in quel periodo, anche in questo modo fu fatta l'Italia e nel Parlamento in questo dibattito che è emblematico ed è stato il primo, poi ce ne furono anche altri successivi prima di arrivare alla Commissione sul brigantaggio e alla legge vita, alla legge speciale, ci sono ancora queste ambiguità per cui c'era chi insisteva e nel primo dibattito il Presidente del Consiglio Ricasoli insisteva, ma non esiste un problema di guerra civile perché Ferrari c'era in guerra civile, esiste un problema di ordine pubblico, di bande, di criminali che noi stiamo reprimendo e abbiamo avuto bisogno dell'esercito per reprimere perché i criminali sono troppi. Quindi questo era il pensiero politico in quel periodo a Torino e in Parlamento e il governo dell'Italia Unita, il secondo dopo quello Cavour. Quindi era un modo di tramandare la visione di quello che era in quel momento che poi fu ripreso nei libri di storia, fu tramandato e rimasto e si è inculcato, tant'è vero che ancora oggi c'è chi dice ma il brigantaggio, erano tutti criminali, delinquenti, facevano questi orrori, erano gente che aveva dei precedenti penali terribili, quindi di che stiamo parlando? Perché si confonde spesso le motivazioni di questa gente perché non è vero affatto che erano tutti combattenti perché volevano il ritorno del Regno e delle Due Sicilie. Confluivano in questa guerra una serie di motivazioni di carattere diverso, quindi c'erano le motivazioni sociali, c'era questa guerra contadina, così la Polloe la definì Carlo Leni, la prima grande guerra contadina del Mezzogiorno d'Italia, c'era l'insofferenza, l'insoddisfazione dei militari che venivano definiti negli atti ufficiali sbandati, che nel timore di essere presi, processati, mandati nelle carceri o fucilati per lenitenza o per diserzione, si univano alle bande di briganti e quindi ovviamente erano a favore di un eventuale ritorno del Regno. Quindi confluirono diverse motivazioni, ogni brigante, ogni persona che era nelle bande aveva una motivazione individuale diversa, una storia diversa, l'attecipazione aveva anche un approccio diverso, certo c'erano anche i delinquenti puri, quelli che sguazzavano nel torbido, per cui ad ogni ingresso di paese cercavano di razziare quanto più possibile, di impossessarsi di denaro senza altro obiettivo, senza altra finalità. Però il pensiero di ricasoli espresso negli atti parlamentari è il pensiero che si è diffuso e si è trasmesso nei libri di storia immediati, in quelli della storia ufficiale e oggi molti sono ancora propensi, è difficile poi dopo anni e anni poter dire ma guarda c'è stato anche questo perché ci si espone a critiche e contestazioni, quando invece la realtà è qualcosa di variegato, è qualcosa di complesso, non ha mai una sola lettura, ce ne sono diverse e varie, quindi il compio di chiunque con onestà intellettuale cerca di fare un po' di ricerca, di capire cosa era successo, avere avanti tutti questi ventagli di verità per poterne avere un quadro più completo, un quadro più esauriente. E quindi in quel periodo ci furono queste rappresaglie e ci fu quindi l'esercizio di quello che è nel codice penale unitario, il diritto di rappresaglia. Ma allora la domanda è, è giustificabile un diritto di rappresaglia in una Italia che già era unita da aprile, maggio, giugno, luglio, da 5 mesi, da un esercito italiano da maggio, quindi giugno, luglio, da 3 mesi, contro altri italiani, un diritto di rappresaglia così esteso, così violento, eseguito da militari contro civili, contro popolazioni inerme che sono accusati di essere briganti o complici di briganti. E questo marchio di infame, di paese di briganti, Ponte Landolfo se l'è portato per anni e anni, è stato un bollo che lo ha contraddistinto, così come il paese che diede ai Natali all'attentatore, Roberto I, per chiedere scusa e perdono dovete fare richiesta ed ottenere la modifica del nome in Savoia-Ducano, per dire noi non c'entravo niente, insomma, quindi siamo talmente devoti alla dinastia che vogliamo cambiare il nome mettendoci dentro il nome della dinastia Savoia, quindi ancora così si chiama il paese della Basilica. E quindi pensate un poco quali erano le difficoltà, il clima e il contesto dell'epoca. Un contesto politico in cui, come tutti, perché io sono affascinato da questo periodo della storia, non solo perché è fondamentale per capire la tua giornata, ma anche perché sono affascinanti tutti i mutamenti di assetti e di equilibrio di potere, perché in tutti gli equilibri che si modificano e che cambiano nella storia ci sono sempre le stesse caratteristiche. E allora viene sempre fuori il meglio e il peggio della natura umana, quindi ci sono gli opportunisti, ci sono gli idealisti, ci sono quelli che sanno di essere sconfitti. Perché i vinti del risorgimento? Perché io mi sono chiesto, ma chi erano quei folli che, sapendo che comunque ormai erano destinati a perdere, cioè erano gli sconfitti di quel momento della storia, decisero comunque di andare fino in fondo, molti morirono, molti rimasero mutilati, molti andarono in prigione, quindi era questa la curiosità di capirne le storie, perché poi nella facile superficialità ed etichettatura tutti sono stati bollati come reazionari, come gente retriva, come gente chiusa nelle chiese, che voleva reprimere il popolo. Andando poi a studiare e ad esaminare le singole storie, ti vede invece c'era gente di apertura mentale molto grossa, di idee liberali moderate che però credevano che esistesse una nazione napoletana, una patria napoletana e quindi in quel contesto volevano attuare queste riforme quelle modifiche, quindi consideravano uno stato straniero quel Piemonte a cui invece si erano dati anima e corpo gli esuli e che poi furono a favore della soluzione unitaria con la dinastia Savoia, quindi con quelle reggi che furono poi tramandate, con le consuetudine eppure trasmesse automaticamente in una realtà, in un territorio dalla storia, dall'identità, dal contesto totalmente diverso da quelli in cui nascevano. E quindi è molto interessante questo processo della storia, perché si capisce molto e si conosce molto anche delle nostre terre e dei nostri territori. Quindi questi eccidi sono anche la dimostrazione di come fosse ostacolato quel processo unitario, di come fosse imposto e di come nei primi 20-30 anni di unità ci sono stati poi tutte le premesse per creare una serie di problemi nel sud d'Italia, perché poi se si va ad esaminare tutta la prima consigliatura si vedono quali scelte, quali provvedimenti e su quali territori sono state indirizzate. Soltanto nel primo anno e mezzo su 8 finanziamenti per concessioni ferroviarie, 6 riguardavano il centro nord e 2 soltanto il mezzogiorno. Quindi di che cosa si sta parlando? Insomma di questa unificazione del mezzogiorno che è stato avvantaggiato dall'unità d'Italia. Quindi questi sono dati, sono elementi che si possono tranquillamente trovare. Negli atti per fortuna quelli erano difficilmente falsificabili, negli atti parlamentari, a differenza delle testimonianze o delle lettere. Io cito ad esempio il Melenghin che unifica una serie di lettere, di corrispondenze di Garibaldini e quando raccontano che cosa stanno facendo? Raccontano sempre che il loro nemico sono i Bavari, cioè praticamente l'esercito delle due Sicilie era composto soltanto di bavaresi e i bavaresi in quel momento storico erano un corpo estero, si chiamava i veterani esteri, che era formato da 3.000 militari e l'esercito delle due Sicilie in quel momento era fatto da 50.000 persone. 3.000 su 50.000, 47.000 erano invece pugliesi, lucani, campani, siciliani, calabresi e quelli che morirono principalmente in quel periodo e quantificando attraverso dei rapporti militari Roberto Maria Selvaggi ha citato il numero di 4.200 morti dalla sbarco di Garibaldi fino alla ressa di Messina nell'esercito regolare delle due Sicilie, erano meridionali, quindi che difendevano ed erano soldati di uno stato riconosciuto da tutti, autonomo, indipendente, di una storia di sette secoli che risaliva a Luggero d'Altavilla e si era protratto nel tempo fino ad arrivare al borgone delle due Sicilie e che finì la sua storia politica, ma non la sua storia culturale ideale, il 17 marzo del 1861 e poi con il riconoscimento dell'Italia da parte di tutti gli stati europei. Io credo che di questo si stia parlando, non di altro, non di nostalgie, non di primati del regno, no, perché proprio sono quelli che ammettere ammettere come lo lasciano più indifferenti, né di si stava meglio oppure sono peggio i Savoia, no, ma di un che cosa è stato e in che modo è stato condotto il processo unitario e quali eventuali distorsioni ed effetti ha avuto nel nostro territorio. Penso che da meridionale il minimo di curiosità e un minimo di domande su questo uno se ne debba fare. Io credo di aver finito per ora e poi se c'è qualche domanda sono a disposizione, però vi voglio anticipare che agli inizi maggio esce un mio nuovo libro con l'outet di Agostini, non voglio anticipare il titolo, non posso, però vi dico che un ulteriore passaggio su questi temi, su questi temi, un ulteriore ricerca e un ulteriore approfondimento e riflessione su questi temi. Grazie. ringrazio personalmente l'autore ho una curiosità personale circa un personaggio che è un po' l'emblema delle contraddizioni che hanno animato proprio questo periodo storico soprattutto nella nostra zona ed è un personaggio che lei nel suo libro sul Ponderador evoca, diciamo qua di vereggiata le prime pagine che è il Cavaliere di lei Jacobelli non so se lei ci può dare magari qualche chicca qualche ulteriore racconto per chi arriva un po' perché ci sono in campo due tesi insomma su questo personale io la convinzione che mi sono fatto leggendo qualche cosa è che era uno dei tanti gattopardi del nostro città era uno che era stato beneficiato da Ferdinando II con concessioni economiche anche importanti la sua famiglia il suo padre si era schierato con la dinastia in periodi difficili però quando vide che le cose stavano andando male aderì a questo famoso comitato liberale di Ponte Landolfo e quando poi la situazione stava precipitando con la banda di Cosimo Giordano andò addirittura a Napoli a chiedere di bombardare Ponte Landolfo cioè quindi fu uno che ha una serie di responsabilità e con l'unità d'Italia si è riciclato alla grande tant'è vero che è stato uno dei grandi elettori del primo presidente della provincia del Benevento e quindi rappresenta quell'emblema perché poi dobbiamo poi dircela tutta con sincerità e honestà non è che possiamo dire che tutte le distorsioni sono da additare da chi veniva da fuori e da chi veniva dal nord e purtroppo abbiamo delle grossissime responsabilità per cui ci siamo poi adagiati sul più forte certo la legge dei cannoni ha avuto il suo peso in queste scelte con calcoli di opportunità con calcoli di opportunità e di infurbizi e Giacobbelli era uno di questi certamente ma qua era il più matrimonio io doveva il matrimonio se quale c'era il matrimonio volevo chiedere un altro una cosa di chi lo volevi affermare dopo 150 anni il 14 agosto 2011 l'onorevole presidente Giuliano Amato il nome del presidente della Repubblica è andato a Ponte Landolfo e ha posto questa targa preparata dall'amministrazione comunale sul 150esimo anniversario dell'eccidio di Ponte Landolfo in memoria e ricordo perenne delle vittime civili innocenti ed inervi trucidate nell'eccidio il 14 agosto 1861 da oggi e per sempre adesso la patria rende giustizia e d'onore bellissimo ma i carnefici chi sono stati? Al-Qaeda i lisis i nazisti non si sa perché non si chiamano le cose con i loro nomi? un ladro un ladro un ladro un criminale un criminale diciamo perché se continuiamo a nascondersi dietro un dito non ci diremo mai la verità l'Italia non sarà mai unita perché l'Italia fu spezzata con l'invasione Garibaldino piemontese quindi diciamocene queste cose siamo onesti intellettualmente quindi questo voglio chiedere perché non chiamiamo ancora le cose con i loro nomi? perché abbiamo paura? no c'è l'ambiguità del processo di Italia e poi bisogna pure dire che in quel momento forse il Sud che aveva tanti meriti aveva una storia enorme ebbe un limite di visione politica che è stato poi alla base di quello che è successo se la storia è sempre difficile brutta però se parallelamente quando ce n'erano le possibilità perché le due Sicili hanno attraversato due grossi fasi di splendore una è stata quella immediata degli anni immediatamente precedenti al 789 prima della rivoluzione francese Ferdinando IV e Maria Colorina erano i sovrani più illuminati dell'Europa con una serie di interventi con visioni di aperture anche San Leucio tutta una serie di cose che non sono primati ma proprio interventi e visioni concrete e poi con Ferdinando II dal 1830 al 1845 almeno dove il Regno e le due Siciliari proliferarono le industrie soprattutto in provincia di Salerno cominciarono a venire una serie di stranieri ad aprire imprese e aziende che chissà perché qualcuno dice ma però erano stranieri però oggi si dice ma com'è che non attiviamo investitori stranieri allora ci dobbiamo anche mettere d'accordo con noi stessi perché oggi vogliamo che investino gli stranieri all'epoca venivano perché avevano delle particolari agevolazioni e convenienze ad aprire delle aziende ed erano in contatto poi con quelle svizzere che fornivano dei macchinari di avanguardia e allora e quindi in quel periodo soprattutto nel periodo di Ferdinando II se ci fosse stata una visione internazionale capire che l'isolamento e l'autarchia non potevano essere esasperati che erano validi come ricette e formule economiche oggi c'è un ritorno ad aumentare i tazzi e poi dopo l'unità ci fu nella crisi con la Francia del 1887 ci fu un'esasperazione si ritornò indietro quindi si aumentarono i tazzi e si penalizzò poi tutta l'agricoltura l'esportazione dell'agricoltura del Mezzogiorno d'Italia quindi ci furono delle visioni strane poi in tutto questo avvenne che a differenza di Torino Napoli era la culla di una serie di liberali estremisti che avevano la prevalenza su quelli moderati che fecero precipitare le cose nel 1848 perché vedere le due storie parallele è molto interessante fu Ferrinando secondo a dare per primo la Costituzione poi seguì lo statuto Albertino che cosa successe? Lo statuto Albertino fu calato dall'alto da Carlo Alberto che affidò la scrittura della Costituzione a 85 nobili tra di quelli più retrivi che poteva avere il regno e gli studiosi dell'università come Paolo Colombo l'hanno scritto e hanno detto a persone di idee più retrive non si poteva affidare però questo fu accettato in silenzio nessuno obiettò nessuno disse che era troppo sbilanciato come è lo statuto perché nei confronti della dinastia è stata la nostra Costituzione fino al 44 il mio articolo potenziale è scogitato da Benicolo e quindi nessuno fiato rispetto a questa invece a Napoli si scatenò nel momento del giuramento del Parlamento tutta una serie di spinte estremistiche di cui fu campione e lo ha scritto anche Settembrini ad esempio Giovanni la Cecilia Ricciardi ed altri che esasperarono la situazione che poi precipitò e quindi si perse erano in mala fede loro volevano rovesciare la monarchia e in realtà il problema del mezzogiorno nella storia è stato questo la differenza tra il nord e il sud nell'assetto e nella storia è che nel sud a un certo punto si è affermato un regno unito unitario che doveva fare i conti con il potere prima dei feudatari e poi dei latifondisti quando questi poteri si sbilanciavano c'era una serie di effetti a catena di bassi comunicanti quindi in queste dinamiche anche di proteste influenzavano molto anche gli interessi dei latifondisti che spingevano perché volevano contare di più perché volevano dire di più la loro e tant'è vero che con l'unità d'Italia che cosa poi in effetti successe chi deteneva il potere economico nel mezzogiorno d'Italia finalmente riuscì a poter avere anche voce in capitolo nel potere politico quindi questa fu la dinamica semplice sempre un bilanciamento e un rapporto di così che faranno voi se voglia posso sì un'ultimissima domanda che quando scoppiano le campagne noi le campagne le ascoltiamo quindi stiamo schiullando il nostro finale anche un tipo di voi una domanda una rapidissima domanda per la verità non sulla storia su cui potremmo parlare per parecchio tempo ma semplicemente sull'impostazione del romanzo perché Gigi Di Fiore ha scritto il romanzo storico sulla scia di Walter Scott se vogliamo o Francesca F. di Guestazzi o in sedicesimo dei promessi sposi mi ha contato un qualcosa che fondamentalmente vorrei essere che mi sia chiarito il dialogo i dialoghi che sono stati abilmente creati nel contesto del racconto tra la concettina Pasquale e così di scuola sono ottocenteschi ma abici sono molto upper class che lo vedo decontestualizzato rispetto ai cafoni di cui inevitabilmente ovviamente cafoni non nel senso di speciativo di cui inevitabilmente si sta parlando era questo che volevo osservare con le mie ha perfettamente ragione io poi volevo dire due parole su questo libro questo libro l'ho scritto nel 1997 e fu pubblicato nel 90 da un editore napoletano antiquario che ha una bella libreria antiquariana che è Marzio un focus story un esperimento che mi interessava per avere una maggiore diffusione a livello nazionale eccetera questo è vero questo è però spingere poi ad un verismo eccessivo forse perdeva nella nella capacità di comprensione del fatto che poi è alla base del romanzo c'è una cosa che invece io è voluta allora io comincio l'incipit del libro con il silenzio e finisce con silenzio perché voglio sottolineare che su queste storie e su queste vicende e su questa parte c'è un silenzio c'è stato silenzio però anche forse il silenzio continua e quindi questo simbolo della divisa che si butta a mare il silenzio che comincia e finisce era era voluto questo libro poi e questo è un aneddoto fu presentato nel marzo del 99 alla circola della stampa di Napoli e tra chi mi presentò il libro oltre a Pasquale Squitieri che era uscito sarebbe uscito da poco con i film storicani dopo poco c'era Riccardo Pazzaglia Riccardo Pazzaglia aveva fondato da appena 90 da appena sei anni i neoborbonici ed era lui che coniò il termine neoborbonico perché diceva noi abbiamo una lunga storia di sette secoli e rispetto a questa storia rivendicare la nostra identità e la nostra grande tradizione potremmo chiamarci neo-welfi neo-arabonisi neo-angioini neo-francesi però poiché siamo più vicini come periodo prima dell'unità alle borboni delle due sighe chiamiamoci neoborbonici e così nacque il termine che coniò proprio Riccardo Pazzaglia bene va bene allora ci fermiamo qua facciamo una frase io vorrei che poi ci sia un seguito in cui tu racconti anche i vinti patriottici non ci dimentichi tu hai citato Luigi Settebrini non ci dimenticiamo ci sono molti vinti che sono anche tra i patriotti i patriotti c'erano dei vinti e Luigi Settebrini rilasciò delle dichiarazioni bellissime sull'unità di Dato ed è un patriotto quindi io sì Mazzini è quello più no ma Luigi Settebrini che ha avuto un ruolo significativo nel mio altro giorno era un intellettuale straordinario era un intellettore dell'Università di Napoli e lui ha dichiarato apertamente gli errori dell'unità e soprattutto la perdita di identità c'è un passaggio che cita Croce che cita Croce esattamente questo dice quindi sarebbe bello poi ritornare a parlare anche di questi anche di questi con un nuovo libro con un nuovo libro perché c'è sempre questo lo sapevo un applauso allora